Grazie a tutti. Poi ci sarà bisogno di raccontare il futuro e quindi ho visto tante persone alternarsi, però poi la gente è quella, io conosco persone qui all'Aquila da prima del terremoto e ho il piacere di condividere con loro un'amicizia e non sono aquilano, non ho parenti aquilani, nessuno mi ha obbligato a venire qua, l'ho scelto, quindi avendolo scelto ne sono più che mai convinto. Ho avuto delle persone che mi hanno aiutato a conoscere e a capire questo luogo, un nome per tutti è Sonia Fucci che è qui davanti che adesso ci aiuta nella produzione ed è lei la colpevole del fatto che la nostra piccola cinecittà sia qui in Abruzzo. E tra l'altro vi do una piccola chicca, voi non sapete che oggi qui con noi c'è Celestino V, perché abbiamo girato le ricostruzioni dove era presente Celestino V, Giacomo se ti alzi è quello qui, lui è Celestino V. Questo è Abruzzo. Stiamo cercando un oggetto grandissimo. Guarda, 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 si vede. Siamo super visitati. Questa mattina che dovete fare di una buona notizia una notizia, quindi so la fatica che dovrete fare. Perché stiamo, come sapete, le notizie cattive camminano da sole. Vi ricordo quando una delle mie figlie, io tenete conto che ho tre figlie femmine, il caso ha voluto che anche mia moglie fosse femmina. Una volta la mia figlia più grande, che si faceva l'elementare, fa papà, perché io non posso andare nel telegiornale, perché vedeva il telegiornale. Dico, vedi pure, se tu domani vai a scuola e impazzisci e uccidi tutta la tua classe, tu andrai sicuramente sul telegiornale. Ma se domani tu andrai a scuola e prenderai un bel voto, tu non andrai mai sul telegiornale. Vuoi andarci o no? Dici, no, non ci voglio andare. Perché purtroppo, in questo periodo storico, in particolar modo, siamo continuamente informati delle cose negative che succedono nel nostro paese e nel mondo. E questo, alla fine, crea una specie di vortice negativo nella nostra testa. Cominciamo a diventare involontariamente pessimisti, cominciamo a vedere nero il futuro. Ma se non lo vedessimo, invece, positivo, che la gente normale lo vede, se no non starebbe qui a combattere ogni giorno per lavorare, per allevare figli, per costruire un'azienda, per valorizzare un affetto. Se non facessero questo con le persone normali, non varrebbe la pena di andare avanti, naturalmente. Mi sono permesso una volta di fare un filmato per istruire o per informare i giovani su tutte le cose che sono nate in Italia. È stato bellissimo perché abbiamo preso come soggetto un signore che andava la mattina in ufficio. E ho deciso di togliergli tutto quello che era stato inventato in Italia, dicendo cosa sarebbe il mondo se non ci fosse stata l'Italia. Beh, vi posso dire che voleva arrivare in macchina, avere un computer, accendere una lampadina, telefonare, vestirsi con dei jeans e è andato a casa in mutande. La città del mistero, non si sa chi l'abbia fondata, non si sa quali siano le sue finalità principali, ma sappiamo che è bellissima. La conoscenza è un atto d'amore, è la possibilità di essere liberi. Che emozione, che emozione, che bellezza. Stiamo andando verso il castello, mai conquistato. Andiamo, andiamo, veloci. È arrivato il momento di salire su tutte e tre le piramidi, in una sola sera. Wow, è una delle porte più belle che ho mai aperto, veramente. Le nostre telecamere potranno essere i vostri occhi, perché qui è successo qualcosa. Ed eccoci qua, Roma sotterranea. Non è solamente buia, stretta. È anche grande, imponente. C'è qualcosa che ci può stupire. Il campanile non potrà mai abbandonare Venezia. Un popolo antico, valoroso, di Giardana. Che spettacolo. Davanti a noi, la fontana dei fiumi, del Bernì. Justo, abbiamo un problema. Ah, si sente proprio l'odore dei libri d'altri tempi. Ho nato a Roberto Giacopolo, ormai è un amico di questa città. È una presenza fissa. E rappresenta, nell'ambito di questa rassegna di bellezze atruzzesi, anche un eccezionale testimonial di una città che dimostra, io credo, con l'impegno quotidiano, quanto di buono sia stato fatto e quanto di bello abbia. Abbiamo visto i risultati straordinari di questo elemento di promozione territoriale che è l'arrivo del Giro d'Italia, venerdì, l'arrivo della tappa è stata vista da milioni di persone. Ci sono stati riscontri sia dal punto di vista locale sia dal punto di vista nazionale. Che avere cinque puntate su delle bellezze turistiche, ma soprattutto culturali dell'Abruzzo, con la sua professionalità, credo che sia una cosa sicuramente da aspettare. Ma come sto cercando di dire, noi siamo rimasti un po' fermi in questi anni, dobbiamo recuperare. Per cui il prossimo anno stiamo lavorando su una programmazione turistica, su una programmazione turistica culturale, su una programmazione turistica inno-gastronomica insieme con il mio collega Imprudente, che sicuramente è un passaggio importante e fondamentale per il nostro amico.